Un passo importante sia per la regione Abruzzo ma soprattutto per la città di Giulianova. Sì, oggi abbiamo sottoscritto le prime sei concessioni relative ai caliscendi del porto di Giulianova. Una vicenda giudiziaria e anche a livello burocratico ed amministrativo che si prolunga da oltre vent'anni. E quindi oggi abbiamo sottoscritto questo passo fondamentale, ci auguriamo tutti e per la prossima stagione estiva questi nuovi sei caliscendi possono tornare a nuova vita. per rendere ancora più bello il porto di Giulianova dove ci sono concentrati altri investimenti da parte della regione Abruzzo. Oltre un milione e 300 mila euro a disposizione di queste infrastrutture per arricchire e migliorare soprattutto la sicurezza dell'infrastruttura portuale. Manna dal cielo come dice giustamente lei anche per il turismo soprattutto estivo. Sì, il porto di Giulianova è parte fondamentale della città di Giulianova e quindi i nostri investimenti sicuramente aiuteranno a migliorare tutta l'infrastruttura, il porto sia al servizio dei turisti ma anche al servizio della marineria giuliese. Entro quando verranno ripristinate questi sei caliscendi? Ma ci auguriamo tutti che i nuovi concessionari possano realizzare l'infrastruttura e renderla operativa per la prossima stagione estiva anno 2019. Gioia per Giulianova, Lido e per tutto il territorio? Beh è una tappa importante, noi abbiamo un pallino da sempre, quello di fare sempre di più di questo porto un momento importante per il ruolo che ha nel tessuto sociale ed urbanistico di Giulianova, quindi arricchirlo di servizi, di offerte, arricchirlo di iniziative, è una cosa che insomma fa piacere. Contenti soprattutto anche i gestori degli stabilimenti? Figuriamoci, sono oltre vent'anni che combattono per avere questa possibilità e quindi è sicuramente un traguardo notevole. Grazie. Grazie.